Qui è Paolo, Marto, che è lì che traffica, l'altro è Giorgio, è il mio bassista, invece io sono la Pia praticamente. Sono nati dalla vita, praticamente quello che mi succede intorno io non mi accorgo, mi sveglio la mattina e mi viene subito in mente il testo, la musica, un po' la linea di arrangiamenti, mi registro al telefonino e poi dopo li butto giù col pianoforte o con la chitarra, do una linea a loro per far capire quello che voglio. Siamo sempre divertiti sul palco e fuori dal palco, quindi si diverte sempre, soprattutto quando facciamo i live, quindi quando siamo in giro col pulmino, insomma facciamo anche delle orari un po' allucinanti, però con loro io mi sento proprio bene, quindi mi ritengo fortunato. E' la mia famiglia, ecco, perché io la mia famiglia ce l'ho a Rezzo, invece di essere la mia famiglia di Bologna, di Ferrara, insomma, le persone che mi stanno più vicino, che per me la musica è la cosa più importante e loro sono più importanti insieme alla mia musica. E' la mia famiglia di Bologna, di Ferrara, insomma, le persone che mi stanno più vicino alla mia musica.